Brixia Forum si svela alla città aprendo le porte della Fiera di Brescia in Via Caprera, un polo rinnovato nello spirito e negli spazi, grazie all'opera di ProBrixia, azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia. L'intenzione è quella di dare una nuova vita a un'infrastruttura dalle notevoli potenzialità, rendendola rinnovata e in una veste più adeguata alle esigenze, in virtù anche della sua caratteristica polifunzionalità. Sì, sicuramente è un momento importante per rilanciare l'economia di un territorio ponendo al centro quello che ha il ruolo dell'agricoltura, dell'agroalimentare, di quello che può essere un settore strategico proprio per rilanciare un sito importante come è quello della Fiera di Brescia. Come col Diretti ci abbiamo creduto, l'abbiamo condivisa anche con il mondo dell'industria, dell'artigianato, del commercio, partendo da Brescia per far sì che Brescia diventi un po' la capitale anche dell'agroalimentare.